la grandissima michela mogliori con noi allora qui ci sono i piccoli giovani campioni il tuo sport è bello per loro averti qui sei in una pausa di lavoro dalla tua coppa del mondo che stai guidando in questo momento con la classifica sì siamo in pausa dalla coppa del mondo ma io non sono mai in pausa sono sempre in preparazione sempre in allenamento a parte oggi che sono venuta appunto a vedere questa bellissima gara dove ci sono un sacco di atleti da tutto il mondo anche dalla cina arrivano è bello vedere una località dove sono cresciuta così che cresce cresce anche lei con una pista che è stata finalmente messa fissa per consentire a tutti con tutte le squadre di venire ad allenarsi infatti questo per risultato una bellissima gara e sono veramente felici di vedere queste nuove leve che un giorno troverò in coppa del mondo quanto può essere importante il tuo inizio di carriera l'hai fatto senza una pista fissa no ad averla voglio dire avresti avuto forse anche qualche comodità in più è molto importante può essere decisiva sicuramente per i giovani avere una pista su cui iniziare ad allenarsi con continuità e seriamente è sicuramente d'aiuto io non l'ho avuta però ho avuto la fortuna che i miei allenatori mi portavano fare tanti raduni allo stelvio a cervinia quindi comunque ci muovevamo invece averla a casa sicuramente un vantaggio non da poco o bichieri in bocca al lupo quando riprenderà la coppa del mondo e buon divertimento oggi grazie mille ciao ciao